Buongiorno da trovare gli amici Oddio io gioco Ultimate Arena Ah 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 Benvenuto a Firestore Io sono CL4PP Ma puoi chiamare Hai voluto questi amici? Eh mo lo elimino Ma no! Solo perché che sta gioca Sì Ma DAL Ma DAL Eh eh Guarda proprio Fiero è fiero è fiero 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 Il v-sync questo gioco non ce l'ha proprio Cazzo le caverne dei Fulbong Ah già c'ho il 5 Bene bene Lui urrano un bel povero eh sti vizzi Mi saltano Dobbiatori best Immagini i doppiatori che fanno Mmm C'è il coltellino Ok Stiamo a fare un orge Ah ah Oh vedi allora Cosa vuoi tu? Eh 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 A te te piacciono le banane No E devi andare oggi con le banane Ah 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 Hai visto? Allora cambiamo il colore Cioè parliamo tanto male degli altri E poi Però tacci de Mirkos E ora possiamo andare verso la Pacifica Fai Reson Vabbè Tutto nero con i pantaloni rossi Cosa è? Dopo Natale Ma non è Kibbero Ma cosa è Kibbero? Che è? Ah 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 No è Kibbero Vabbè ferma 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 Questa non sta guardando Quanto cazzo è brutto Roland Porca puttana Oh madre Porca miseria c'è C'è di fetch Corri 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 Guarda come devo risvegliare i druid Mamma mia Manditozzi Oh io riuscirò Pumpa farò tantissimo Sola e manganello Sono andati via Questi banditi ce l'hanno con noi 4 No Essere usati tra e salta Tiro a segno Molto parte del nostro programma Eeeeeee Eeeeee Eeeeee E' Kibbero E' Kibbero Inizia il bordello Mamma mia Ma che cazzo è sto fucile? Perchè non spara bene? Eh vabbè Molto fucile Diamo la colpa al fucile Eh c'è ma il fucile Che spara stort Ma non be Non lo lo fai con niente Ma sei un ubriacone Chissà che te sei bevuto prima di sparare Ahahahah Ma per gli oggetti come fanno? No Oh no Oh no 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 Ma che effetti poi che effetti che effetti No 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 Ah la gnocca Oh vai ti contatterò presto Eh si La gnocca Dov'è? Dov'è? Attenzione cittadini di Firestone Non c'è più motivo di allarmarsi Questo nuovo visitatore ha rispetto al problema Ah vedi Che cavolo ho pensato di rimanerci secco Quella volta Quei dannati banditi non ci lasceranno stare Dove faccio entrare Forza I dannati Degli stramaledetti circuiti fanno le vizze Prova a usare l'interruttore fuori ok? Ora che hai selezionato una missione Non ti sparsa una nuova icona sull'interfaccia Ah ah Ma grazie claptrap Non lo sapevo Eccolo Guarda guarda che grafica Che cazzo Eh lo so Sembra un medico fascista Eh Grazie per l'aiuto Mi chiamo sed Non mi fa più Non mi fa più Perché ho perso la licenza Ma tengo in momento il mercato dei farmaci Ora che abbiamo finito segui per favore I venditori puoi acquistare tutto quello che ti può offrire un dottore vero Guarda che già scappa Che saluto Ma è scivoso Guarda deve sapere aspettare lei eh Io non so aspettare Eh lei allora va malissimo Malissimo Perché io non ho fatto il gioco Ah vedi allora me lo deve dire Pizzo Eh come è Abbiamo detto da all'inizio No raga non piglia proprio sto cosa Miglioro ogni volta Ho di più da queste persone livello 105 come a me O un milione di vita Io c'ho quasi alla metà E non tolgono un cavolo Cioè sono più forte che io Non è possibile Al quanto pare hai evitato line close Non preoccuparti avrà quello Non leva Non c'è no 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 Non posso Io Non me voglio far più domani Non me voglio far più domani Oh quel piccolo robot ha bisogno del tuo Voluto Gli dai gentilmente una mano Gli diamo No Mike Ma scherzando Oh sempre una mano c'ha bisogno questo eh Il piccolo robot è danneggiato e non durerà a lungo senza assistenza Non ci sguacca Non lo so Cerchi qualcosa per ripararmi Ok Ehi Ehm in senso Che tongue Sembra a me è il momento di proseguire avrei una parte nel viaggio che ti aspetta mi ha detto una parolaccia! 100! assale la mia! vale se non la sapete! spari bene eduardo! eh o mi devo sparare la pistolina! eh malissimo, malissimo! eh c'è il cecchino che non spara! eh il mo' il cecchino non spara! c'è una cadenza di merda! ehi tu straniero! e tu straniero! chiamami! non avrò una laurea in medicina! quando ti avranno sparato qualche arma? niente! ehi quanto è un cazzo! eh no! giunto di potenza! signor eduardo si è fottuto le armi sicuramente! dove ha? chi so! quale armi? eh quale armi? quelle c'è in tasca! non c'ho un cazzo! questa c'ho eh! 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 io ti lascia la... eh! il gruppo ti lascia! ok! eh! che c'è in tasca! ah! non c'è in tasca! ah! 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 ring bang però tutti acquistare lo shield con i soldi di Edward chi è che sa che aveva con l'inglese? Edward è il migliore in classica cover under the inn cioè under questo vedi va a fa culo eh, ma è behind behind, behind è dietro vero? era nascosta una volta behind I'm behind behind grazie per l'aiuto ahaaah, eccolo, dove vado? ah, finitelo di parlare però al centro sono il signor Attila e l'ho uscito ho messo in coda per un'instance capirai 36 minuti va giocabobbe, giocabobbe no, perché non ho messo curatore, se mettevo curatore è 2 minuti ma non me la sento di cura bene banditi uccisi 8 Edoardo 0 questo vedi è morto e indica qualcosa però ah, è quello che abbiamo ammazzato lì e cosa indica? ehm Edoardo, devi vedere bene queste cose attenzione là a destra eh lo prendo subito dov'è? a cosa? ah scusa, lei dice attenzione questa attenzione là a destra a cosa però? dica al soggetto eh, dica al soggetto che stanno i livelli ottili là eh, noi siamo in tre e li famo male no? eh, un cazzo problema non li famo niente li fanno il peggio di quello che dovrebbero fare uno o due eeeh comparandoli li curiamano praticamente vabbè questi giochi vecchi allora eh ehi un'arma che pista ma la vedi? c'è già meglio va rire ma c'erano le armi elementali? eeeh le armi esplosive questo giorno ma dentro lo ricordi? io ci ho giocato vabbè 80 anni fa ma che 80 anni fa? quassi devo ricaricare vabbè senza colpi eh eeeh pistolina io uccidereli uccidereli io però sono più cattivo ah 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 ho preso le munizioni allora le prendo ah ah ma cassa io sto prendendo munizia per tutti questo è questo tasto qui ah ma che bella vabbè ma lei ruba senza magari ma è mio cecco non si diffude ah così funziona la legge democratica la legge democratica si dice che il cecco è mio punto hm e non posso metterlo fino a livello 5 eh hai voluto la bicicletta eh mo pedalo eh pedalo e ma sti versi non si possono senti più eh adesso lei col cecchino va a uccidere tutti quelli di livello 8 da solo sì sì certo ma ma arriva a livello 5 prima eh ci fa guadagnare pure esperienza gratis eh via la sfida duelli chiamo cosa posso fare per te ma che te chiamo no non avrò una laurea in medicina quando ti avranno sparato sarai felice che io sia qui eh non lo so eh ma è sempre di frittere il silenio ah come ci sto dentro però me l'avevo dimenticato eccoli lo ah vedi ah si sparano eh eh edoardo lei è poco pratico eh c'è il piccolo nano e c'ha delle spalle gigantesche eh eh sì ahhhh le frasi di Mordekas vecchi ricordi annaggia u l'ho preso da qui con sta pistola che c'ha uno di precisione ora vedi c'è te rendi conto che lo mira al petto e non prende sto colta eh devi calcolare il vento attenzione ah un vecchio ah così tu un altro passo e sarà l'ultimo ahahahah avresti dovuto vedere l'espressione della tua faccia ahahah il mito il mito ehm però gli fotti so con di Renato ahah è cieco questo anche zoppo però è un geniar filini questo si anche zoppo ehm non lasciare che quel figlio di Maskega manda biscotti di me vieni oh vedi questo non lo vedi più quindi se io mi butto qua giù vuoi eh non lo faccio a parte che ci sono le torrette le vede quelle? le vedo ah vedi esatto mi fanno male tu superi mi spara non è casino oltre che mi faccio male di caduta e mi danno il resto vabbè qua in mezzo alle aiuole Underwater cave perna sott'acqua ok no come no si Underwater oltre la su oh quanto oltre la vada a me poi no non mi serve più il medico ah vedi la rampa ah vedi la rampa berri come no mai rupi sussurranti si chiama questo luogo aspetta andata avanti andata avanti stai guardando il mio pugno oh si i cechi a te la chiede soddisfazione vedete tu recupera c'è da un cazzo la mia tra persone e delle granate acquistano granate ben fatto grazie a te ho deciso di riaprire la mia filiale di Firestone va in città e compra del nuovo equipaggiamento di livello se non sbagli c'era l'archiment di vincere il duello vero? si nice ah facciamolo subito ti sto lanciando una sfida idiota lo sei truccato attacchi al cazzo vabbè ma sconsi che di soddisfazione dammi soddisfazione questa c'è all'asta e allora eh una gran... una grazie tre ore hanno calcolato male tre ore di cammino queste non sono granate queste sono patate ah ok vabbè ci rinuncio scusa allora lei non è un vero ciechi tocca infilarle una su per il sedere che un soldato è quel che ha spezzato le dita no lo ha spettato dire questa cosa vabbè vabbè sono sicuro che proveremo qui dentro se non avvettare per spezzarne le dita non è solo che spessare le dita a chi la direi questa poi sono questi signini che non sono regolati ma tu sarà altro che come adesso mi errore se tira queste patate le patate tira come si tira? vediamo un po' ah vedi chi ha tirato la granata? eh è stata la dinamite si si la dinamite boom facci sentire i dialoghi edoardo non serve non serve eh non serve l'azione subito male edoardo perché gli do il dialoghi di mass effect eh eh e quello deve giocare da solo mica con me maldette però dovevo capire un po' la storia no? ah la deve capire con me no io dico questa porca no uno scudo chi lo vuole se lo spetti eh prendi 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 eh vai vai i mei danè i mei danè i danè cosa stiamo giocando a Metal Gear per cazzo? come a Metal Gear? che cosa c'entro? i danè i danè a Metal Gear la vedi? ah vedi dice tutto edoardo ha raccolto l'arma vedi? qua lo dice e lo dice è normale che lo dice la sfira polvere di edoardo chiammo tanto ma la piate voi questa ah no me la prendiamo non la prendio io fico ma me l'aspettavo questa è tutta roba vostra io non so con niente fa il cagliare questo tuo fucile a pompa e una pistola eh no vedete voi la pistola non la prendo io io preferirei il mitra ma non pompa ragazzi diamoci un pompa per uno qua ci sta un cecchino edoardo dove? qui ah vedi? l'hai visto? però allora eh lei si lamentava a me niente eh eh sentite ma io che devo fare? devo abbandonare la distanza? ooooh se la prendo a mano se la prendo a mano prendo le prendo le ah vedi pure la pistola verde ma porca puttana hai detto pigliate la bomba e guarda come fanno incazzare ah via dalla via ah via dalla via presa via dai presa via ah fucile è molto lento oh eh 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 weg eh ah eh eh Unizia non ci sono Stai per affrontare la sua prima vera sfida Tra la pistola No Niente pistola Passa per le munizioni Non è un po' di daciare Sì Sì Non è un po' di daciare Sì 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 Le munizie Ai 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 E se posso non arrivano a dubai Venga vadi Vado Primo Duffo della morte Con quale animazione In effetti Ma questo ha tre palle Palle C'è finita le munizioni PINCHI 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 Ho finito i caccia Eeeh Allora L'altro che mangia la polvere Fa vinta la vita Allora L'altro si è andato a rintanna qui eh Ok Più bella ragazzi Allora Allora La mettiamo subito La pistola Ecco qua L'abilità La pistola qualcuno se la prende PINCHI Venti la tua Attila vai Ma te lo pigliate Sempre io devo pigliare E io ma Vai hai la cassa Dopo dite Tu sempre io Eeeh Ti Hai capito? Ho detto Vieni la mia per terra Che io mi piglio la cassa Capito? Un'altra cassa Quella merda Questa roba bianca Ma com'è? Quella roba che stava fuori Questa La stessa FIFA Eh si Si è scioglta C***o Altri cassa Qui hai detto tu? Mi ricordo male Sì Ah sì Ecco Aieh Sempre la solita merda Uscita Non è che Ha preso un giro Ma giusto per vendere Io vengo Meno 15% di nanno Meno 15% Meno 33% Siamo tutti? Sì Sì Aspetta È caduto Sì Così faccio prima Cosa è successo? È caduto Sono sacrificato Per andare subito Fuori Ah 145 Le metto sulla Sua quota Edoardo Ah le canzoni Ti importa Eh si sente Con le pentole Questa l'anno fa Questo è stato il primo passo Nel tuo cammino Devi ascoltare Non importa chi sono io La prima cosa che devi sapere È che la cripta Esiste davvero Alcune persone tenteranno Di ingannare Ha capito signor Ma lei non ammazza Non ammazza Io sto esplorando qua sotto Ma guarda che c'è Stanno all'altro Guarda che c'ha in testa Oh I pipistrelli Eh i pipistrelli Ma l'avvi Schek dietro al culo Schek dietro al culo Ahia Il giovane Schek Ma hai messo i punti Sull'abilità Sì Ancora no Non ho avuto tempo No Mi hanno preso Rack C'è rack Qua c'è la cosa Che se uccido Torno un vita Ah vabbè Dovevo mettere al volo Il punto Servono munizioni C'è la vita qui Sento già meglio Vecchia tabbretta di Roland Quindi qui si fa male Aia Non mi sembra molto Non mi sembra molto No, 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 no. Odio queste frasi da notizie. Senti, è un bel po' che sopposso la notte, ma ho servito anche. È un bel po' che si sapevo di l'attenzione, si viene ferita, si diventa aiutante, si assieda a me. È uno di mezzo che lo fa, un sacco di denti. Il periodo più lungo è stato verso la vicinità, al 119. C'è il colletante. Non sono una ragazza facile, non vado a metto a cucini. Ho bisogno di sentire il trasporto. Odori, ma stranieri. Ma, vedi, ti piace la straneggia? Miglioro ogni minuto che passa. Sto cercando di proteggere la stessa. Se continuo a evitare di soffrire, a evitare il dolore, rischio di non provare più.